Dopo il rifiuto, poi ritrattato del sindaco di Pescara Carlo Masci, di concedere la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, scende in campo il comune di Teramo. Il capoluogo aprutino intende infatti proporre alla senatrice a vita ebrea italiana, sopravvissuta ai campi di sterminio nazista di Auschwitz, di diventare cittadina teramana. L'idea, lanciata dal capogruppo di Bella Teramo, Giovanni Cavallari e raccolta dal Partito Democratico, si tradurrà in una mozione che sarà presentata nel prossimo Consiglio Comunale. Liliana Segre, cittadina di Teramo allora? Prossimamente sicuramente, perché il comune di Teramo, il nostro comune, è sicuramente diverso dagli altri comuni capoluoghi di provincia della nostra regione. Ho ritenuto di dover sostenere la mozione presentata dal Partito Democratico anche alla luce di ciò che era accaduto a Pescara, che veramente è stata una pagina poco simpatica da ricordare, ma penso che negli ultimi giorni si siano cambiati anche gli orientamenti a Pescara. Per cui spero che molto presto riusciremo a portare a termine anche questa concittadina Liliana Segre a Teramo per farle vedere la nostra città, per farle apprezzare il popolo abruzzese che è accogliente, e non è divisivo. Come ha valutato la posizione un po' altalenante del sindaco di Pescara? Beh, sinceramente alcune dichiarazioni che ho potuto leggere sulla stampa mi hanno lasciato basito. Successivamente, probabilmente, avrà anche lui, si sarà reso conto che forse le dichiarazioni erano state un po' troppo eccessive. L'iniziale rifiuto della città di Pescara alla proposta del centro-sinistra di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre è diventato un caso nazionale. Il sindaco Masci ci ha poi ripensato e il conferimento avverrà il 27 gennaio prossimo, giorno della memoria. Liliana Segre non sarà però la sola a ricevere il riconoscimento. Con lei ci saranno tutti i sopravvissuti ai campi di concentramento, l'unione delle comunità ebraiche in Italia e la brigata ebraica.